Conviene fare lo scrittore recita il banale incipit di un dibattito, forum, blog che è in corso attualmente online, come se quello dello scrittore fosse un mestiere o una professione, quello dello scrittore non è né un mestiere né una professione, è una vocazione. O uno ha le qualità della buona scrittura, ha il talento dello scrivere, oppure non diventerà mai uno scrittore seguendo magari le decine e decine di scuole di scrittura che esistono in Italia, tutt'al più imparerà a non commettere errori di ortografia o a mettere insieme una banale storia, però se non si ha il talento della scrittura, se non si ha la vocazione della scrittura non si diventerà mai uno scrittore e se si ha questo talento casomai lo si può migliorare, lo si può coltivare con buone letture, con buona cultura, però innanzitutto per essere scrittore bisogna avere il proprio talento dello scrivere e quindi non è che convenga o meno fare lo scrittore, bisogna vedere se lo si è scrittori e poi per quanto riguarda il guadagno si sa che quando si segue una strada della creatività il guadagno, ahimè, è sempre molto incerto e solo pochi fortunati o deletti riescono veramente a sopravvivere anche con la scrittura. Grazie per la visione!